Pace bene a tutti e bentornati. Oggi 25 marzo ricordiamo l'Annunciazione del Signore. Il termine Annunciazione deriva dall'annuncio che l'Angelo Gabriele fece a Maria sulla nascita del Messia. «Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù». E Maria rispose «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». Il nome Gabriele significa Dio si manifesta forte, potente e onnipotente. Ed è proprio lui che porta l'Annuncio a Maria rivelando l'onnipotenza di Dio. Nulla è impossibile a Dio. Anche il nome della Madonna la predestina al programma di Dio e la associa al mistero di Cristo. Il nome Maria, infatti, presenta diversi significati. Dall'aramaico «mia principessa, mia signora, mia regina». Dal greco «kiria» significa signora, ed è il femminile di «kirios», signore. Dall'ebraico «colei che vede e che fa vedere», ossia «colei che rende visibile l'invisibile». Dall'egizio significa «colei che è amata da Dio». Maria è la sempre amata da Dio, perché è voluta in modo assoluto insieme a Cristo nell'unico e medesimo atto di predestinazione. Questa festa del Signore si colloca al centro della storia della salvezza e ha segnato l'inizio dei tempi nuovi. Il racconto evangelico dell'annunciazione è presente nella comunità cristiana dall'istituzione del Natale, poiché i due episodi sono fortemente legati. La caratteristica mariana della festa si conservò fino alla riforma conciliare del Vaticano II, cioè fino a quando Paolo VI ne recuperò anche il senso originario riferendola all'annuncio della nascita del Signore. Con lei il popolo della promessa diventa il nuovo Israele, la Chiesa di Cristo. La data della celebrazione al 25 marzo è legata a quella del 25 dicembre del Natale, dalla quale trascorrono i nove mesi della concezione e nascita del Salvatore. Ecco, se la storia della salvezza fosse un film e Dio fosse un regista, io direi senza dubbio che questa dell'annunciazione sarebbe la scena capolavoro. Dio che si china su una creatura bellissima e pura, splendente, la Vergine Maria, per rivelargli i piani della salvezza e in che modo lei è coinvolta in tutto questo. Non temere, sono le parole dell'angelo, a Maria che nel suo splendore è turbata da questo saluto che la vede piena di grazia. Che cosa vorrà dire questo e come accadrà quello che l'angelo ha detto? Sono le uniche cose che Maria desidera sapere, un come. Ecco, nella nostra vita arricchiamoci di questa fede di Maria, di questa bellezza, di questa purezza e di questa anche fanciullezza. E tutto è iniziato lì, quando questa giovane donna si è resa disponibile ad essere la serva del Signore. Leggiamo questo Vangelo di oggi, ascoltiamolo e contempliamo la bellezza di questa scena perché è un grande dono che non dobbiamo dare assolutamente per scontato e che la Vergine Maria ci accompagni sempre nella nostra vita. Santa Maria prega per noi.